E adesso è arrivato il momento spazio al coro, siamo ancora a Rocca di Cambio con Lorenzo Balleriane, quindi gustiamoci l'ultima puntata di questa settimana. La storia di Cambio con Lorenzo Balleriane, la storia di Cambio con Lorenzo Balleriane, Grazie a tutti. Vesco te l'eve, alla rucarne, nu para visse, ero figame. Vesco te l'eve, alla rucarne. Vesco te l'eve, alla rucarne. Vesco te l'eve, alla rucarne. Vesco te l'eve, alla rucarne, nu para visse, ero figame. Vesco te l'eve, alla rucarne. Vesco te l'eve, alla rucarne. Vesco te l'eve, alla rucarne. E ovviamente vediamo adesso in primo piano, ma l'abbiamo visto nel dettaglio anche durante l'esibizione, l'abito caratteristico direi di quasi tutte le corali abruzzesi. Poi ognuno di voi, Antonia, aggiunge qualche piccolo particolare? Diciamo di sì. All'inizio ne avevamo un altro, poi vabbè, questo è il risultato di diverse ricerche. È bene o male venuto fuori questo qui, con vari colori che si alternano tra il giallo, l'azzurro e il rosso. Nelle gonne, con le rifiniture e poi il bustino, come vedete, abbiamo cercato di ricalcare i vecchi costumi tipici dell'Abruzzo. Nelle gonne, con le rifiniture e poi il bustino, come vedete, abbiamo cercato di ricalcare i vecchi costumi tipici dell'Abruzzo. Nelle gonne, con le rifiniture e poi il bustino, come vedete, abbiamo cercato di ricalcare i vecchi costumi tipici dell'Abruzzo. Nelle gonne, con le rifiniture e poi il bustino, come vedete, abbiamo cercato di ricalcare i vecchi costumi tipici dell'Abruzzo. Nelle gonne, con le rifiniture e poi il bustino, come vedete, abbiamo cercato di ricalcare i vecchi costumi tipici dell'Abruzzo. Nelle gonne, con le rifiniture e poi il bustino, come vedete, abbiamo cercato di ricalcare i vecchi costumi tipici dell'Abruzzo. Nelle gonne, con le rifiniture e poi il bustino, come vedete, abbiamo cercato di ricalcare i vecchi costumi tipici dell'Abruzzo. Nelle gonne, con le rifiniture e poi il bustino, come vedete, abbiamo cercato di ricalcare i vecchi costumi tipici. Nelle gonne, con le rifiniture e poi il bustino, come vedete, abbiamo cercato di ricalcare i vecchi costumi tipici. Nelle gonne, con le rifiniture e poi il bustino, come vedete, abbiamo cercato di ricalcare i vecchi costumi tipici. Nelle gonne, con le rifiniture e poi il bustino, come vedete, abbiamo cercato di ricalcare i vecchi costumi tipici. Nelle gonne, con le rifiniture e poi il bustino, come vedete, abbiamo cercato di ricalcare i vecchi costumi tipici. Nelle gonne, con le rifiniture e poi il bustino, come vedete, abbiamo cercato di ricalcare i vecchi costumi tipici. dei primi dei primi innamorati anche perché so che ha composto poesie importanti che oggi ce ne vuole leggere una tratta da una storia vera successa a degli amici che nel primo dopo guerra è intitonata io ci ammello allora ce l'ascoltiamo per bene le chiedo solamente visto che il cognato del sindaco di alzare un po il tono della voce così l'ascoltiamo per bene il sindaco le avrà insegnato ovviamente a perché no a bacchettare gli astanti e quindi insomma i vari consiglieri va bene allora io ci ammello muovi racconto una cosa una frega curiosa che è succedetto ormai tanti anni fa a zia rosaria donna spiritosa cagliutorione stia da abita la guerra era passata già da un anno se faceva tanta fatica per campare e per stati assi circa che erano dramma con una saraga due ova e poche pa però noi orno dall'america riette non paccopino e roba da mangiare e mezzo a tutto nuova sito e scette che fu guardato con curiosità e che sarà zia marta gli ufidette gli mise piano piano sul comò gli amici e gli parenti pochiamette ognuno titubante gli guardò entro ci stia una polveretta fina di uno colore scuro guachavana qualcuno sentenziò questa è farina di quella buona o questa americana ne pigliette un fuoco la saggette e rimanette proprio sbalordito gli baffi e poi le dita se lecchette facendo venagliati e appetito la volemo provare e mo l'ambastemo un belio ciammello mo ci facemo e così fu se mise l'impastà mettendoci una frega di ingredienti per la golosità degli presenti che bello ciammello è un po' scurito questo è speciale è stato poco fitto io vedi come bello è colorato io vedi come bello è lievitato è soffice è leggero proprio cotto mo io tagliamo quanti siamo otto non pensa a mia tia zia maria gli quadrani non pensa a zia sofia tutti i contenti si misero a mangiare sempre parlando della specialità sinti che buono è dolce e profumato è proprio una bontà è prilibbato chi un zuppello latte chi allo vino chi allo caffè chi allo cappuccino chi un bagnette con la cioccolata chi con la crema cedette una spalmata ognuno a modo se si raffiatette qua accadono a modo se si era buffette insomma fu una festa improvvisata meglio della normale scampagnata quanto dei pur più dolce la frittata tanto salame e poco soppressata non mese dopo manco a farla apposta ecco che tarriette poche poste io poromo e povero bustino proprio te cumbinette no casino una lettera a zia marta consegnette che quasi quasi quella no svenette cari parenti devo avvertirvi mi dispiace farlo che da due mesi è morto lo zio carlo e per sua volontà da rispettare abbiamo dovuto farlo cremare spedendo le sue ceneri al paese vi accludo quindi soldi per le spese per farlo benedire per farlo ricordare per farlo seppellire o forse tumulare l'urnetta certamente vi è arrivata era nel pacco bella sigillata mi raccomando le affido a voi parenti perché non le gettiate ai 4 20 santa maria santa madonna che gli successa questa buona donna s'assettete su un mordo soppruetto un zuppetto con gli acidi un fazzoletto s'appoggette sopra la scansia e cerchette di chiamare quella della zia di corsa per le scale trafelata la basi ma gli uffiato trattenea tra minto che gli stomaco reggea bussena c'è rosaria e strillea apri rosame sento di impazzia tecchia poco dammi un po' a sentire calma ti aspetta ti muove ti parla ti ricordi un pacco carriette in mezzo a tutto un uva sette scette beh rosario a me come è successo come sarò stato noi a risuocarlo si usiamo un magnato che cazzo sta dici proprio sicura te pensi te dammi sta fregatura voli si intendi che quella polverina era la cenere scagnata peffarina ebbene ci è proprio così lo sta a capire che siamo combinato io porto su carlo si usiamo pappato bussena la croce santa vergine me oh ma se proprio è successo pace all'anima se allora in una determinata strofa diciamo in un determinato verso c'era una parola da bippare tecnicamente ma noi non bippiamo innanzitutto perché è una storia vera e poi perché è tradizione assolutamente assolutamente sì insomma non so se dirle complimenti o buon appetito davvero particolare poi pensare che è una storia vera è particolare antonio la protagonista bambina è la moglie di un nostro compagno corista ruggiero che sta al cuore con noi quindi è successo veramente tanti anni fa in campania è cresciuta con il ciambellone ha fatto le ossa forti insomma ha fatto le ossa forti allora dopo questo simpatico racconto che è una storia vera senza bip noi torniamo sul palco per ascoltare qualche altro minuto della corale di rocca di cambio e poi vi salutiamo appuntamento la settimana prossima ovviamente sempre in giro per l'abruzzo per ascoltare soprattutto non solo i cori ma anche un po le storie che circondano il territorio non solo di rocca di cambio ma di tutto l'abruzzo un saluto enorme fatevi ringraziare alla parte tecnica mario giacchetta e maurizio milione non cambiate canale anche dopo la sigla rimanete sul rete 8 perché il nostro palinsesto ricco è presente quotidianamente vi farà passare delle ore davvero interessanti ci vediamo la settimana prossima buttate il telecomando non buttate il televisore lasciatelo sul canale 10 del digitale terrestre dove c'erete 8 buona serata non in senso L'amore che prende la tua e la tua e la tua e la tua e la tua. La casa rende a me, la seggela e la vuoi, la riunirà e la riunirà. Ora, ora, la riumella vola, ora, ora, dimmi l'amore all'està. Amore da me da, non vieni per cantare, ti so che tanto è questa volta, oggi lo faccio. Amore da me da, non vieni per cantare, ti so che tanto è questa volta, oggi lo faccio. Amore da me da, non vieni per cantare, ti so che tanto è questa volta. Amore da me da, non vieni per cantare, ti so che tanto è questa volta, oggi lo faccio. Grazie. 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 Grazie.